Io sono Caroline, amo i poveri e gli assassini. Sono Edgar, qui ce l'hanno tutti con me, mi seguono! Io sono Gina e odio le persone brutte e malate. Io sono Alex Resterick e il mio teatro è a Stony Gates. Io sono Mildred Bull Brunson, tutti dicono che sono antipatica, ma perché? Ciao, io sono Wally. Io sono Jane Marple, Miss Marple. Ma dov'è andato Luis? Luis? Luis, sei a The Cold. Signor Luis? Sì. Scusate che passano gli anni, ma il debutto provoca sempre forti emozioni. Scusate che passano gli anni